Jonas Severi, questa è la serata conclusiva di A Cielo Aperto 2016, avete chiamato Iverdena, sono redditi da un tour europeo molto importante e anche da un mini tour italiano in cui hanno avuto molto successo. Esatto, questa è la penultima data del mini tour che hanno fatto dopo il tour europeo dove hanno registrato diversi sold out, per noi in realtà non doveva essere la serata inconclusiva perché dovevamo concludere con Cat Power, però in realtà per problemi di tempo, mal tempo, l'abbiamo rimandata ad oggi. Il bilancio comunque rimane positivo anche per questa edizione? Assolutamente sì, siamo contentissimi dell'afflusso, il festival piace, è in crescita e quindi è assolutamente un festival sano che può solo migliorare. Questo è un arrivederci e il prossimo anno tornerete ancora più forti di prima? Esatto, noi siamo assolutamente convinti di continuare la nostra, non è una battaglia, il nostro obiettivo è quello di diffondere la buona musica e di portarla nella nostra città, quindi sicuramente continueremo. E anzi vorremmo crescere ancora di più allargando il festival alla città e quindi regalando anche al pubblico che non è magari interessato al gruppo un momento di intrattenimento e di spettacolo.